Sono pronta a ballare fino a cadere a pezzi. Ma non letteralmente. Venite con i gambe. Sì, ci siamo. Merita una celebrazione. Ragazzi, che state facendo? Andate in classe. Devo cambiarmi. Non mi interessa, andate. Adesso. Questi ragazzi non impareranno mai. Scusami. Casey! Scendi adesso! Ehi! Papà! Ora basta! Aspetta! Che cosa? Wow! Che ingresso! Salve, signor preside! Come va? Siete entrambi espulsi! Nuova scuola. Mamma, è terribile. Non posso vivere qui. Non tornerai a casa. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è giusto. Una stanza segreta. Devo vederla. Ecco qua. Wow! È anche meglio di quanto immaginassi. Io sono così sfortunata. Wow! Un mistero nel mio armadietto. Una stanza segreta. Oh, figo! Controlliamola. Oh, wow! Figo! Ehi, cosa ci fai tu qui? Questa è la mia stanza. Che cosa? L'ho trovata per prima io. No, l'ho trovata per prima io. Non me ne vado. Non credo proprio. Io è il mio lato e tu il tuo. E vedi di restare fuori dalla mia proprietà. Mi aiuti? No, grazie. Questo tizio mi sta seriamente dando sui nervi. Non importa, farò tutto da sola. Ora va meglio. Facciamo uno spuntino. No! Perché? La mia roba! Perdente! È ora di cambiare look. Ma manca ancora qualcosa. Ah, ci sono! Louvre, mandami il conto. Bene. Oh, ah! Il mio radar per la povertà sta impazzendo. Ah, sediti e guarda. Roma non è stata costruita in un giorno, ma solo perché io non c'ero. Sì, oro, spezzi e tutto ciò che è bello. Io! Ottimo lavoro, Tom. Perfetto. Solo qualche ritocco e... Che meraviglia! Ora è tutto bello. Ah, tutto al mio livello. Mi serve di più. Eh, sì. Cosa sta facendo? Devo assolutamente guardare. Non riesco ad arrivarci da qui. Peccato. Ah, io lo so. Occhio che... Occhio che... Si mette male. Ci sono quasi. Ora spierò con il mio piccolo occhio. Cosa sta facendo? Eh? Mi piace. Oh, devo farlo anche io. Eh? Sul serio? Solo un euro? Oh! Oh! Wow! Decorazioni avanzate! Ballo studentesco. Oh! Wow! Ci sono delle luci. Bingo! Ottimo lavoro, Casey. Facciamo dei mobili. Stai solo attenta con il taglierino, ragazza. Tendi ad essere un po' goffa. Eh? Bene. Le collegheremo così. E ora serve un piccolo cuscino. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Casey! Che... Ah. Vedi? Non ho bisogno di soldi. Ah, ah, ah. Perfetto. Ah, ah. Quella è la mia stanza. Ragazzo, il ragazzo nella stessa stanza. Oh, non esiste proprio. Come hai potuto? Ah, ah, ah. Oh, oh. Oh, eh? Che succede? Questa stanza è per una persona sola. Decidete chi vivrà qui. Tornerò presto. Una persona sola? Sarò io. È ora di fare uno scherzo. Eh, bene. Vorrà sicuramente andarsene. Eh, eh. Ehi. Ehi, non senti bussare. Il mio maggiordomo non è qui oggi. Mi stai prendendo in giro. Ah, ah. Il topolino sta cadendo in trappola. Ah. Ciao. Com'è possibile? Ah. 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 Chi è? Ah. Molto sospettoso. Che cosa? Ehi. Viene da qui. Oh, sul serio? Mm? Ah. Ah. Non fare la furba. Ah. Ah. Tu mi hai provocata, ragazzo. Piselli verdi. Oh. 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 No, 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 no. Ah. Maschera di gas, fresco. Ah. Ah. La tua nuvola puzzoletta e non mi prenderà. Oh, no. Cosa? Mi piacciono i piselli. Sai che c'è, Casey? Darò una festa. Una festa? Ehi. Non sei invitata. Oh, che cosa? Non mi sono mai persa una festa. Oh. Ah. Cosa? Ah. Su, serio? Casey, svegliati. Ah. Ah. Casey, svegliati, trattore. Ah. Ha funzionato? Ha funzionato? Svegliati. Oh. Ora basta. Ehi, Casey. Ok, ho capito. Devo metterla di lato. Perfetto. Dorme come un angelo. Ah. Finalmente. Ah. Eh. Eh. Oh. Cosa? Oh. 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 Ssh. Sto cercando di dormire. Oh. Oh. Che diavolo? Oh. Ah. Ah. Finalmente mattina. Ah. Fammi vedere la macchina crea soldi. Oh. Cosa? Non posso andare alla festa accoggiato così. Truccatrice? Vieni qui. Mm. Ah. 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 Immagino che dovrò fare da solo. Ah. Ok. Vediamo che cosa ho qui. Venite qui, ragazzi. Ah. Dovrebbe aiutare. Ah. Ah. Come farò? Ehm. Ehm. Eh. Ehm. Ah. Qualcuno non è pronto per la festa. Oh. Ah. Vedremo. Eh. Carta stagnola Ora devo tirare fuori il mio Picasso interiore Bene Sono un genio Devo mettermelo Mani ferme, Casey, mani ferme Ho una sola possibilità Non posso metterlo male, per favore Namaste, sorella È rovinato Non c'entrai comunque Vedremo Chi è il più figo? Devo cambiarmi No, questo non lo metto Funzionerà? Oh, figo La pelleccia è finta, vacci piano, peta Anche le catene sono fighe Ok Farà troppo caldo No Facciamolo Ma è lo stesso vestito? Non ho niente da indossare Devo aggiustarlo Ma come? Aspetta Boom Molto meglio Aia Cosa sta succedendo? La festa è già iniziata Dani Che ci fai qui, Casey? Ciao Posso unirmi a voi? Fammi vedere No, Casey No, Casey Controlliamo anche questa pagina Ah, spiacente Non sei sulla lista Battene Fregata Ciao, sono Sue Sul serio? Vedo cosa vuoi fare Bel tentativo, Casey Sue è già qui Voglio anch'io la pizza Ciao Ti farò vedere io Sì, esattamente Signore Tom Mi dispiace Ho qualcosa per te Oh, che carina Ma non entri comunque Certo No, non l'hai fatto Non me ne vado Casey e Tom di nuovo Ne ho abbastanza E adesso Fuori Adesso Non abbiamo un posto dove vivere Non preoccuparti So io cosa fare Troppo piccolo Oh, questa è carina Non abbastanza soldi Respinto Come? Oh, cosa? Povero No Dobbiamo trovare dei soldi Ma come? Penso che stia registrando Ehi ragazzi, date un'occhiata Tocca a me Oh, ma la mamma l'ha comprata per me E quindi? Dammela Mi prendi sempre tutto Perché io posso? Oh, hai la mia testa La mia lampada È colpa tua Mia? È tutta colpa tua Rovini sempre tutto Non lanciarmi le cose Prendi Non osare Sei pazza? Non toccarmi i capelli Lievati Che cosa? Questa era la mia maglietta preferita Ok, capito Non c'è problema Ti mando subito il contratto Che gioco Mamma! Guarda cosa ha fatto Casey alla mia lampada E alla mia maglietta Mamma, ho rotto la mia lampada Non riesco più a fare i TikTok Questo è il mio contratto Non potrò mandarlo Mamma! Adesso basta Ruby Quante volte devo dirtelo? Non venire nella mia stanza Mentre lavoro Mamma! Cos'è questa? Una lampada? Non mi interessano i tuoi problemi, Ruby Devo provvedere a questa famiglia, io Vai fuori di qui Non voglio più sentire niente Ha rovinato il mio lavoro È così ingiusto! Vedi? A nessuno importa di te Nemmeno alla mamma Smettila! È la sorella peggiore di sempre Perché deve essere sempre così cattiva? Forse dovrei semplicemente scomparire Farei un favore a tutti Caro diario Non a nessuno importa di me Non a mia sorella Nemmeno a mia madre Anche io ti amo Baci Ci vediamo a casa mia tra... 15 minuti Ok tesoro Ok ok, a dopo allora Mi fai schifo Ciao ciao Devo essere perfetta È meglio che mi prepari Mi devo sbrigare Sì, io lo so Devo truccarmi Dov'è? Non va affatto bene Deve essere da qualche parte Sono sicura che ce l'hai tu Tu hai sempre la mia roba Adesso cosa? Dov'è il mio rossetto preferito? Ehi, cosa fai? Ok Ti perdonerò questa volta Oh, quello è il tuo diario? Restituicilo Deve essere davvero importante Oh no Hai una cotta? Per favore, non farlo Dio mio Che cosa? Cosa significa? Ma questo è il mio ragazzo? Sul serio? Pensi che si innamorerebbe di te? Che ridere Pensi di essere così speciale? Forse sono meglio di te Che cosa? Cosa hai detto? Forse Tom Sono la sorella maggiore qui E io sono quella con un ragazzo Non tu Siediti qui nella tua stanza E pensa al tuo comportamento Ehi, fermati! Cosa stai facendo? No, non farlo! Apri la porta Non puoi rinchiudermi Non può essere Fammi uscire E cosa farai? Io preparo le mie cose E me ne vado Vedrai Cosa sta facendo? Non ti lascerò mai uscire È troppo tardi Non è divertente Ti odio! Apri la porta! È tutta colpa tua Te lo meriti Sei la sorella peggiore di sempre Vorrei che non fossimo sorelle Ho finito Perché stai facendo tutto questo? Aspetta Non riesco a sentire niente Ti ho rilasciata tutta sola La porta è aperta È così stupida Casey che cosa hai fatto? Devo uscire di qui Forse se scavalco Non funzionerà Ecco la mia via d'uscita Ce l'ho fatta Sono molto più intelligente di Casey Ruby? Che sta succedendo? Che cos'è questo pasticcio? È colpa di Casey Mi ha chiuso a chiave nella stanza E poi ha messo tutte queste cose Non mi interessa chi l'ha fatto Sei stata tu o Casey? Pulisci più veloce Adesso O sarai in grossi guai Ma Casey l'ha fatto? Mamma! Io me ne vado Ve ne pentirete tutti Vi mancherò quando me ne sarò andata Ehi tesoro Sono così felice che tu sia qui Mi sei mancato davvero tanto Anche tu mi sei mancato Tom! Ehi! È così bello Ops Cosa stai facendo tu qui? È la mia sorellina Sorella Non ti ho mai vista prima Ma mi ricordo di te Andiamo sempre in biblioteca insieme Alle 18 E noi Voglio dire E tu leggi Fermati! Non è interessato? Oh sì Vado in biblioteca Ma non mi ricordo di te Devo fare qualcosa Oh tesoro Certo che no Guardala È una nerd Oh no Perché fa così? È davvero imbarazzante Guarda che cosa ho io Che cosa è il mio diario? Dove lo hai preso? E ha una cotta per te? No Ma è personale Restituiscilo Vieni a prenderlo Mettila Cosa fai? Non va affatto bene È una pazza Andiamocene Oh Devo mostrarti una cosa Guarda qui Nessuno mi ama Tom non sa nemmeno che esisto Sono così imbarazzata Voglio solo sparire Non voglio più vivere qui Ho bisogno di denaro Devo rompere il mio salvadanaio Mi dispiace tanto doverlo fare Finalmente lascerò questa casa E nessuno mi prenderà più in giro Oh no Non bastano Cosa posso fare adesso? Aspetta un attimo Li prenderò da Casey Lei mi prende sempre i soldi E non li restituisce Non c'è niente qui A cosa le serve un libro? Non legge nemmeno Diamo un'occhiata Sì le ho trovati Sì Posso finalmente uscire di qui Oh Cos'è stato? Ops Lei se lo merita Prenderò le mie cose E poi me ne andrò Oh no Casey Guarda Chi è ancora qui? Stai andando a fare una passeggiata Con i tuoi amici? Oh Ops Stupida me Non hai amici? Che cosa? Non è vero Smettila di essere cattiva È vero Che cosa? Oh Cosa hai fatto alle mie cose? Che cosa? Dove sono i miei soldi? Ladra Oh Restituiscili subito Lascia andare la mia borsa Damme Oh Sono i miei soldi? Ma dovevi darli a me Quindi sono lei Oh Oh I miei soldi? Oh Volevo usarli per delle scarpe nuove Oh Esci Grande Stavo per andarmene comunque Oh Sul serio? Sì Perfetto Ti aiuterò io Oh Imballerò io le tue cose Oh Ecco Questo è tutto Oh Spero di non vederti mai più Oh Bene Adesso come farò? Dove dovrei andare adesso? Ruby? Sei tu? Ehi Ruby Cosa c'è che non va? Io Io sono scappata di casa Come mai? Nessuno mi ama Mi odiano tutti Non è vero Loro sono la tua famiglia Cosa dovrei fare? Non piangere Dai Andrà tutto bene Tutto andrà bene Prometo Sì hai ragione Mi sento meglio Ve l'avevo detto Andiamo No Non andrò a casa Che cosa hai intenzione di fare? Non puoi stare qui Presto sarà buio Veramente? E fa abbastanza paura Qui intorno E poi c'è il Oh io lo so La soffitta Nessuno sale lassù da anni Andrò lì Basta Basta Ti aiuterò io Ok? No Sono una ragazza grande Posso gestirlo da solo Non posso lasciarti tutta sola Ti aiuterò io Andiamo Sul serio? Grazie Dai andiamo Non riesco a vedere nessuno Ok veloce Silenzio Dobbiamo salire qui Sbrigati Prima che ci vedano Ce l'ho fatta Wow Nella mia stanza è ancora peggio Urrano Urrano Stai bene? È piuttosto polveroso Oh posso usare questo Spero non ci siano ragni giganti Quante ragnatele Tranquillo Questo è piuttosto divertente Immagino che nessuno pulisca qui Penso di averle tolte tutte Molto meglio Toglile Non c'è tanto Non ti avevo visto Fammi prendere questo Va tutto bene E tua? Sì sono i miei giocattoli d'infanzia Ah come carino Un biberon Ah figo Le lucine Aspetta Possiamo usare questi Reggi Cos'altro c'è qui dentro? Ah Li appenderò al soffitto Wow figo Oh guarda cosa ho trovato No dammelo Mi dispiace non volevo offenderti Non devi vergognarti Avevo rapparecchio anch'io quando ero bambino Te lo mostro Vedi? Ero così buffo Sei anche un po' carino Fa un po' freddo qui Sì penso che dobbiamo prendere delle coperte e dei cuscini Buona idea Ti aiuterò io Andiamo Rubi Dov'è? Rubi È meglio che non mi ignori Rubi Aspetta che la becco Aspetta un attimo È andata via Ah non può essere Sono sicura che si stia nascondendo da qualche parte Ci è mancato poco Ssh Le coperte sono Questa è la sua camera Ehi concentrati Prendi questo Oh no riesco a sentire Casey Oh nascondiamoci Presto qui Rubi Sei qui? Rubi dove sei? Ah io lo so Di solito ti nascondi qui Oh Deve essere nell'armadio È così carino Vorrei essere la sua ragazza Ah non giocare con me Rubi Vieni fuori Vieni fuori ovunque tu sia Cosa facciamo? Nascondiamoci So che sei lì dentro Ti trovo sempre Ah ti ho presa Prendiamo degli spuntini Corri Chi ha spento le luci? Ti ho trovata Che cosa? Dov'è? Non puoi nasconderti da me Cos'è quello? Rubi Eccoti Pensi di essere così intelligente? Ti farò vedere io Sì Penso di sapere cosa fare E avrò bisogno di questo Giochiamo sorellina Mi divertirò un sacco Spero che tu abbia fame Rubi Sarà divertente Ehi Questo è per te Mamma Sei a casa presto oggi? Che cosa hai fatto? Casey Che sta succedendo? Sei pazza? Che cos'è? Non posso credere Che faresti una cosa simile Perché lo hai fatto? Sono troppo occupata a litigare Presto Grossi guai Tornami in soffitta Oh Il portatile di Casey Ora tocca a me Guardare un film Ce l'abbiamo fatta Pensavo che ci avrebbero scoperto Mettiamo a posto queste cose Metto qui la coperta Wow Mi sembra accogliente Guardiamo un film Sì Batteria scarica Oh Volevo davvero vedere un film Allora facciamo qualcos'altro Ma cosa? Aspetta Ci deve essere qualcosa da fare quassù Oh Io lo so Ho imparato a fare un proiettore a scuola Ci servirà una scatola Ah Ci sono solo giocattoli per bambini Adesso farò un buco Ok E una lente di ingrandimento Va nel buco Ok Dammi il tuo telefono Fidati Funzionerà? Wow Sei così intelligente Ma è fantastico Oh no Il mio stomaco Vuoi della pizza? Sì Come lo sapevi La ordinerò io Pronto? Pronto Possiamo ordinare una pizza? Che tipo? Quale vuoi? Prendi capricciosa Capricciosa Nessun problema Ottimo ciao Ci vorranno dieci minuti Continuiamo a guardare Come divertente Penso che questo sia l'indirizzo Ciao Ho la tua pizza Dove sei? Torna un po' indietro Ancora un po' Gira a sinistra No Alla tua sinistra Ok A sinistra A destra Da questa parte Continua ad andare a destra Un po' di più Fermati Proprio qui Cosa? Ma che strano Ecco qui Quindi sono venticinque Ehi! Dove sono i miei soldi? Non vedo l'ora Anche io Questa pizza è più vecchia di me Non dovremmo mangiarla Non voglio rischiare Ma abbiamo ancora bisogno di cibo La mamma mi ucciderà Devo trovarla al più presto Oppure saranno cavoli? Cosa dovrei fare? Pensa Casey Pensa Oh! Posso chiamare i suoi amici? Calma Non conosco i suoi amici? Infatti Non so niente di lei Non va bene Anzi Calmati Casey È la mia sorellina Chi? Sono sole sulla collina Collina? La mia sorellina! Ah! Ah! Scusa! Scusa! Non abbiamo quel libro qui Che cosa? Mi può aiutare? Oh! Tesoro! Sono le 17 Devo andare a casa Ciao! Che cosa? Ah! Ecco perché non vado nelle biblioteche Che cos'è questo? La sua pizzeria preferita! Avrà fame! È lì che andrà! Pronto? Mi potete aiutare per favore? Abbiamo una promozione per lei Figo! Mi piacerebbe della pizza Due capricciose per favore Con formaggio extra Ma! Devo trovare Ruby! Oh! Perché mi dai sempre problemi? Sei così fastidiosa! Oh! Il mio piede! Oh! Casey! Che succede? Oh mio Dio! Devo fare qualcosa! Lo so! Nasconderò questi orsacchiotti sotto le coperte! Il contratto sarà pronto domani Sì! Grazie! Casey! Che sta succedendo? Perché sei così rumorosa? Mamma! Va tutto bene! Ruby sta dormendo! Sogni d'oro, sorella! Sta dormendo? Oh! A quest'ora! E i compiti! Ruby? Oh! Ma mamma! È stanca! Ha davvero bisogno di riposare? Insomma! Per poter studiare meglio! Un'altra riunione! Sì! Solo un secondo! Casey! Prenditi cura di lei! Devo andare! Ciao! Sì! Certo! C'è mancato poco! Hai ancora fame? Sì! Ehi! Hai sentito quell'odore? Ragazze! La cena è quasi pronta! La cena! La cena! Vedo se riesco a prenderne un po'! Vado io! Posso prendermi la colpa se ci trovano! Il mio eroe è fantastico! Tutto è in ordine! Un solo secondo! Ragazze! Venite a mangiare! Sì! 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 La fine! La mamma scoprirà che Ruby non è qui! Cosa posso fare? Chiamerò Tom! Ci sono quasi... Oh! Gli spaghetti! Oh! Il mio telefono! Oh! È Casey! Che cosa? Sono sicura di aver sentito un telefono! Che strano! Casey! Che stai facendo? Niente! Dov'è Ruby? Dov'è il piatto? Beh... Forse è... Penso che sia... Mangia in camera! Di nuovo! Questi adolescenti! Sì! È così! Dov'è finito il piatto? E perché Tom non mi risponde? Oh! Devo stare attento! È ora di mangiare! Devo avere un bel aspetto per Tom! È un po' come il primo appuntamento! Oh! Sta arrivando! Grazie! Sai... Devo dirti una cosa... Ma... Non so da dove cominciare! Anche io! È fatto che... Vedi... Dillo e basta! Dovresti vedere qui! È davvero imbarazzante! Ora va meglio! Non posso credere che sia successo! È Casey! Non rispondere! Devo! Ciao Casey! Tom! Ti ho chiamato prima! Perché non mi hai risposto? Mi dispiace! Ero occupato! Io non so cosa fare! La mia sorellina è scomparsa! Davvero? Non dirle! Tom! Cosa sta succedendo? Chi c'è con te? Non c'è nessuno! Vedi? Sono solo io! Scusa! Sono solo così confusa! Ehi piccola! Devo andare! Scusami tanto! Ti chiamo più tardi, ok? Oh! Grazie Tom! Penserò a qualcosa da dire alla mamma! Ti amo! Ciao ciao! Grazie, grazie per avermi coperta! Mi hai salvata! Oh, scusa! Alla salute! Ho un piano! Spero che funzioni! Metterò questo qui! E ora lo accenderò! Dovrebbe funzionare! Sì, ok! Ti chiamo più tardi, sì! Ruby è lì dentro? Sì, è Ruby! Sta cantando! Strano! Casey, che cos'è questo rumore? Era... È Ruby che canta male! È lei che canta male? Sul serio? Ok, non ho tempo per tutto questo! Mandala a lezione di canto! Ok! Sono così fortunata! Non posso credere che abbia funzionato! Adoro gli spaghetti della mamma! To mamma è così tosta! Potrei mangiarli tutto il giorno! Sono così deliziosi! Sì! È proprio come nel... Oh, no! La mia maglietta! Dispiace tanto! Non importa! Aspetta, fammi vedere se ho... Non importa! Va bene, sinceramente! Indossa questa! Era la mia maglietta preferita da bambino! Oh, è così carina! Sì! Cosa fai? Oh, si sta spogliando proprio qui! Oh, mio Dio! Speriamo che funzioni! Li ho messi in tutta la città! Dove sei, Ruby? Ehi, tu! Hai visto la mia sorellina? Mi può aiutare? Ho provato di tutto! Questa è la mia ultima speranza! Il campanello di casa! Chi sarà? Ruby? Abbiamo trovato la ragazza scomparsa! Edla? Ciao! Ma non è lei! Non è lei? Ma è proprio come nella foto! Non sono io, no! Accidenti! Grazie, ma non è lei! E prendi la ragazza! È tua sorella! E non tornare! Ok, grazie! Casey, che succede? Chi era? Perché tutto quel casino? Erano i miei amici! Vado a fare una passeggiata con loro! Tornerò più tardi! Dimmi che sta succedendo! Ti porto via il telefono per tutta la settimana! Oh, fai sul serio! Dunque, mamma, il fatto è che... Oh! Cos'è questo? Ruby? La mia sorellina è scomparsa! Cosa significa? Che è successo a Ruby? Dov'è la mia bambina? Dimmelo! È uno scherzo, vero? Io... Io non capisco! Mamma, io... Mi dispiace tanto! È tutta colpa mia! Ruby è scomparsa per colpa mia! Non può essere! Mi dispiace tanto! Casey! Casey, aspetta! L'hai chiamata! L'hai chiamata al cellulare! Non mi risponde! Oh, dove andrebbe? Oh, la chiamerò io! Lei mi risponderà senz'altro! Sono sua madre! Mamma, mi dispiace tanto! Dico sul serio! Va meglio! Ehi, ho finito! Guarda! Oh, wow! Ti sta così bene! Adoro gli unicorni! Sono i miei preferiti! Oh, aspetta! Devi vedere questo! Ho un diario con sopra degli unicorni! Eh... Aspetta! Ehm... Voglio scusarmi per quella foto! Non significava niente! Era solo una foto! Oh, no! No, 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 no! Va bene! Veramente! So che quello che ha fatto Casey è sbagliato! Non avrei mai immaginato potesse fare una cosa simile! Grazie per aver passato del tempo con me! Significa molto! Sono io che devo ringraziarti! Mi sono divertito con te! Sì, ci divertiamo molto insieme! Forse potremmo farlo più spesso? Mi piacerebbe! Anche a me! Il mio telefono! Oh, è la mamma! Aspetta! Aspetta! Non riattaccare! Non farlo! Ah, Ruby! Perché lo hai fatto? È mia madre! Esattamente! Si preoccupa per te! So che è così! Nessuno della casa si preoccupa per me! Hai torto! La tua famiglia ti vuole bene! Devi parlare con loro! Non farà alcuna differenza! Lo farà! Fidati di me! Andiamo! Parla con loro! Tutto andrà bene! Non cambierà nulla! Sarò io con te! Ti aiuterò! Non preoccuparti! Ok, lo farò! Andiamo! Andiamo! Ruby, rispondi! Per favore! Chiamo di nuovo! Mi dispiace, mamma! È tutta... È colpa mia! Per favore! Rispondi! Dove sei? Ok, eccomi qui! Mamma! Sono qui! Oh, Ruby! Sei a casa, tesoro! Ma dov'eri? Ero così preoccupata per te! Stai bene! Dimmi tutto, dai! Tom! Cosa fai? Stavate insieme! Volevo solo aiutare Ruby! Cosa è quella? È una lunga... Quella è una maglietta di Ruby! È meglio che mi spieghi tutto perché non hai risposto alle mie chiamate! Ti ho chiamato così tante volte! Hai fame? Vuoi i tuoi pancake preferiti? Te li faccio subito, tesoro! Sì, sì! Oh, aspetta! Oh! È il mio capo! Ho capito! Sai che c'è? Non oggi! Può aspettare! Allora, pancake! Andiamo, mi cucino per te! Grazie, mamma! Immagino che la gente importi! Ma... Voglio che a Tom importi! Eh? Che cos'è questo? Posso starti sempre vicino! Sempre se lo vuoi! Tom... In porta!